È piena fase 3 in tutto il Veneto, gli ospedali riuniti Padova Sud e Madre Teresa di Calcutta stanno progressivamente diventando Covid Hospital. Il dettaglio delle chiusure in corso lo condivide il sindaco di Monselice, Giorgia Bedin. È chiuso il pronto soccorso, trasformato in punto di primo intervento e con la conseguenza della chiusura di tutti i reparti. Ne rimarranno aperti 4 che sono l'oncologia, la dialisi, il matalo infantile e la psichiatria. Però noi ci siamo già organizzati e abbiamo già richiesto per lunedì un incontro dell'esecutivo del comitato. Chiedono un doppio accesso all'ospedale e ai sindaci per pazienti Covid e non Covid. La struttura è adeguata, il problema secondo i sindacati è diverso. Purtroppo è una chiusura annunciata, sono mesi che noi abbiamo chiesto alla Regione e all'USL di assumere personale in previsione di una futura quarta ondata e puntualmente la quarta ondata è arrivata ma il personale non è arrivato. Si attende il concorso infermieri, spiegano i sindacati. La graduatoria per il personale OS esiste già. Il piano di emergenza prevedeva una ripartizione tra i vari ospedali. Continuano. Ai cittadini preoccupati si aggiungono le preoccupazioni di chi qui lavora. I lavoratori ovviamente stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà perché questa è la quarta ondata e quattro ondate sono complicate perché ricordiamoci che lavorano sempre bardati dall'entrata all'uscita ed è veramente veramente complicato e mentalmente i lavoratori fanno grossa fatica. Dall'altra parte un territorio che è per l'ennesima volta senza la sanità. La riorganizzazione sta avvenendo in queste ore disorientati i cittadini, disorientati gli operatori. Alla redazione segnalano casi diversi come quello di un paziente in attesa di un esame oltre prima accolto in ospedale poi rimandato a casa senza né un nuovo appuntamento né un'indicazione su come muoversi. La battaglia dei sindaci non si ferma qui, insomma noi continueremo a lavorare perché sia garantito il diritto alla salute dei cittadini che abitano questo territorio che sono quasi 200.000 e che ci servono appunto di questo ospedale per ogni necessità. A Schiavonia pronti da subito 12 più 4 posti di terapia intensiva cui potrebbero aggiungersene altri 8 e 116 posti di malattie infettive. Anche all'ospedale di Cittadella sono pronti 18 posti di terapia intensiva e 54 di malattie infettive. Se si arrivasse alla fase 4 a questi ospedali potrebbe aggiungersi piove di sacco. Camposampiero sarà l'ultimo, spiega il direttore sanitario dell'Ul Saldo Mariotto per garantire assistenza anche ai pazienti non covid.